La stranezza di Roberto Andò è uno di quei film, di cui parlo spesso, che secondo me dovrebbero essere trasmessi nelle scuole. Io ormai sono uscito dal contesto scolastico inteso come liceo, per intenderci, ecco se parliamo di argomenti come quello del film in questione, però, anche se non ne faccio più parte, credo che questo tipo di film meriterebbero di essere trasmessi nelle scuole, magari perdendo due ore di lezione, magari perdendo la possibilità di spiegare qualche capitolo in più del libro, di attenersi, come sempre, al programma, però dando spazio all'arte, al cinema in questo caso, che sicuramente è sempre amica dello studio. Io personalmente, essendo poi grande amante del cinema, ovviamente l'ho fatto a livello personale, perché ho questa passione e non tutti la hanno, ho beneficiato tanto dei film, del cinema e di quegli approfondimenti personali che mi hanno permesso, durante il mio percorso scolastico, di studiare a volte anche argomenti simili a quello in questione. D'altronde, Luigi Pirandello a scuola si studia come, e sarebbe più bello però studiarlo in questo modo. Quindi, al di là di come poi vengono fuori i film, di quello che è il livello generale di un film, nell'analisi, nel dettaglio, eccetera, sicuramente sarebbero film molto utili anche per gli studenti. Ecco, la stranezza di Roberto Andò, regista tra l'altro di grande livello, regista molto importante del cinema italiano e soprattutto grande conoscitore e amante del teatro. Questo è un aspetto importante, perché chi fa teatro può rappresentare il teatro e soprattutto può permettersi di portare il teatro al cinema. E Roberto Andò sicuramente se lo può permettere. Vi invito anche a recuperare, soprattutto se andrete, e dovete farlo perché lo merita sicuramente, soprattutto se andrete a vedere questo film al cinema, vi invito a recuperare l'intervista a Domenica Inn di qualche settimana fa di Mara Venier a Tony Servillo, Ficarra e Piccone. Perché è un'intervista veramente molto interessante, non banale. Un'intervista, come sempre, diciamo, le interviste di Mara sono personali, sono divertenti, sono anche leggere, però molto intelligente, oltre a tutte le varie adulazioni sicuramente corrette e meritate per Tony Servillo, un'intervista molto interessante anche con qualche retroscena importante per quanto riguarda questo film, che quindi potrebbe farvi leggere e interpretare la stranezza di Andò in maniera particolare. Il film è ambientato nel 1920 durante la stesura dell'opera Sei personaggi in cerca d'autore, ovviamente di Luigi Pirandello, del 1921. Quindi il film si conclude proprio, e non è uno spoiler, con la messa in scena a teatro con la prima, per intenderci, di Sei personaggi in cerca d'autore, che non andò benissimo. Diciamo che non fu un grandissimo successo, ma noi sappiamo che molto spesso non solo gli artisti, i grandi personaggi della cultura, quando sono in vita non vengono apprezzati e non ricevono i giusti riconoscimenti per poi essere riscoperti dopo la morte, ma a volte anche le opere specifiche non raggiungono il successo meritato. E poi che succede? Succede che magari più tardi vengono riscoperte, e questo succede nella letteratura, nel teatro, nel cinema, nella musica, eccetera. Tra l'altro Tony Servillo sicuramente ci offre una possibilità di ricollegare Pirandello, da lui interpretato, con un altro personaggio interpretato da lui in quel meraviglioso film, che qui rido io, di Mario Martone, altro grande artista teatrale, e anche lì, insomma, se ricordate, c'erano degli aspetti di scarpetta, c'erano delle situazioni non capite, non apprezzate durante la sua vita e nel momento della messa in scena per poi essere riscoperte più avanti, quando magari era anche troppo tardi, ma, insomma, l'arte sopravvive sempre nel tempo. Chiusa questa grande parentesi che però dovevo fare, perché ci sono tanti collegamenti, Tony Servillo, il teatro, Pirandello, Scarpetta, la scuola, la cultura, come si studia la letteratura, tanti tanti aspetti, torniamo nel film, il film è stato presentato anche correttamente, perché poi a livello di marketing è giusto, come il film su Pirandello, quindi il film di Roberto Andò, la stranezza, su Luigi Pirandello, e questo non è corretto, ma ripeto, non me la prendo con la promozione, con la pubblicità, col marketing, insomma, già la gente va poco al cinema, cerchiamo di invitarla, magari presentandolo come un film, il cui protagonista è Servillo nei panni di Pirandello, quindi grandissimo personaggio, facciamo sì che possa suscitare più interesse possibile. In realtà, detto papale papale, questo è un film cucito su misura per Salvo, Ficarre e Valentino Picone, e questa è una cosa bellissima, perché Ficarre e Picone sono due brevissimi comici che io apprezzo tantissimo, che sono cresciuti nel tempo, che il pubblico ama, insomma, grande successo anche, per esempio, con il primo Natale, il loro ultimo film uscito in sala, che fece 15 milioni prima del Covid bei tempi, ma anche la loro ultima serie su Netflix, ha raggiunto grande successo, quindi incastrati, quindi sono due attori e comici amati dal pubblico, ma che anche la critica apprezza, riconoscendone i meriti e i talenti, ma come tutti i migliori comici, i bravi attori di commedia, meritavano anche loro l'occasione, anche se non è la prima, si intende, di misurarsi con dei ruoli più, non è bello dire impegnati, perché poi sembra che si voglia sminuire la commedia, che francamente io amo e lo sapete, ma insomma più intensi, magari drammatici, profondi, e seppur questo sia un film di grandissima ironia, perché questa è una commedia drammatica, ed è soprattutto un film storico, più che biografico, perché appunto Pirandello c'è, è interpretato da Servillo, ma il film è il film di Ficar Repicone, il film con Ficar Repicone, che interpretano due becchini, che in questa Sicilia degli anni 20 del Novecento, si ritrovano, diciamo, a confronto con un Pirandello, che non riconoscono inizialmente, salvo poi riconoscerlo successivamente, e diciamo giustamente sentirsi anche in difficoltà, perché l'avevano trattato con sufficienza, come se fosse un qualsiasi professore di letteratura, insomma, dice Ficar a un certo punto a Servillo, lei forse non se ne intende di teatro, perché loro sono due artisti teatrali, questi due becchini sicuramente si dilettano anche nel mondo del teatro, però sicuramente, ecco, non sono a livello di Luigi Pirandello, ma non lo riconoscono inizialmente, e quindi il rapporto di questi due personaggi con Pirandello sarà molto divertente inizialmente, e molto interessante poi successivamente, quando scopriranno di chi si tratta, e giustamente si porranno a confronto con questa grandissima figura, e questo grandissimo personaggio della letteratura italiana, del teatro italiano, della cultura italiana in generale. Tra l'altro c'è un altro aspetto molto interessante, che è quello del confronto tra Luigi Pirandello, interpretato da Tony Servillo, e Giovanni Verga, interpretato da Renato Carpentieri. È una scena meravigliosa, forse azzardo la più bella del film, sicuramente una scena molto emozionante, storicamente molto importante, quella in cui si confrontano Verga e Pirandello, interpretati da uno straordinario Tony Servillo, come di consueto, ma anche un bravissimo Renato Carpentieri, che è in partecipazione straordinaria, diciamo, perché ha un piccolo ruolo, ma ovviamente fa la differenza, come tutti i grandi attori, che non hanno bisogno di tanto minutaggio, sanno fare la differenza anche in cinque minuti. Per cui si concentra, come detto, sulla stesura e la messa in scena, diciamo non fortunatissima, di sei personaggi in cerca d'autore, ma Pirandello c'è ben poco, quindi non è il film su Pirandello, c'è un Pirandello silenzioso, c'è un Pirandello che osserva, c'è un Pirandello che ride sotto i baffi, c'è un Pirandello che assiste agli spettacoli di questi due becchini teatranti, c'è un Pirandello che scrive, compone, cerca ispirazione, che ovviamente fallisce, ma sa di aver scritto una grande opera, sa che comunque il tempo poi magari gli darà ragione, perché il grande autore, il grande artista, quando scrive un capolavoro, lo sa, se lo sente, quindi se anche sul momento non dovesse raggiungere il successo meritato, poi la storia sicuramente dirà la sua e darà ragione a chi merita, ovviamente, successo. Pirandello è silenzioso, e Tony Servillo lo interpreta in meraviglia. Quindi non è un errore, perché è giusto presentarlo diversamente, ma giustamente io, come credo un po' tutti gli spettatori, avevo un'altra aspettativa. Questo comunque non è un difetto, giusto per dire però che è più che un film su Pirandello la grande occasione di Ficarre Picone di misurarsi con un grande cinema, quello di Roberto Andò. Il film è molto interessante, ovviamente molto affascinante, c'è una bellissima presentazione della storia, quindi il film tu cominci a vederlo ed entri all'interno della storia, grande coinvolgimento anche a livello emotivo, salvo poi, secondo me, calare un po' nella parte centrale. Quindi un film che definirei un pochettino calante nella parte clou, nel momento cruciale, in cui avrebbe dovuto non solo colpire maggiormente, ma avrei voluto qualche, diciamo qualcosina in più dal punto di vista contenutistico. Poi c'è un bel finale, appunto, la messa in scena di sei personaggi in cerca d'autore che conclude molto bene questa storia. Però sicuramente, per quello che era stato l'incipit, la presentazione della storia, anche per il soggetto in generale, che dal trailer non si capisce, perché è molto diverso, ma poi il film ti presenta con grandissimo interesse, ecco, sicuramente mi sarei aspettato qualcosina in più. È un film che mette un po' di carne al fuoco, poi si perde, e secondo me, insomma, qualcosina manca all'interno. Manca proprio a livello di sceneggiatura, un po' di contenuto, però al di là di questo, insomma, è un film molto interessante e soprattutto è un film che, come ho detto, insomma, a inizio video, dovrebbe essere trasmesso nelle scuole. Perché? Perché al di là del fatto che possa essere perfettamente riuscito o non perfettamente riuscito, è un film di grandissimo interesse culturale che permetterebbe anche a tutti gli studenti di studiare magari un grandissimo personaggio come Luigi Pirandello in maniera più interessante, senza, e interessata appunto, senza avere la percezione di star studiando uno di quei tanti mattoni che si trovano sui libri, ma al contrario, un grandissimo autore che la stranezza ti fa amare, perché poi qui è molto dolce, anche molto, è molto umano, anche il rapporto con la moglie è definita pazza, insomma, sappiamo anche la pazzia, che valore abbia nella letteratura di Luigi Pirandello, senza fare ovviamente, senza aprire lunghe parentesi, perché già non ha aperte troppe, ma, capitemi, io amo la letteratura, amo il cinema, amo il teatro, tutto messo insieme diventa difficile anche contenerlo. però sono molto felice che sia uscito in sala un film con Pirandello, per quanto sia il film che vede come protagonisti i due becchini interpretati da Ficarra e Picone, ma un film in cui c'è un grandissimo Pirandello interpretato da quell'attore che non ha aggettivi, non ci sono aggettivi con i quali lo si possa definire, ma insomma, un attore, veramente, troviamone uno, clamoroso, che è Tony Servillo. Quindi, un buon film, al quale do sette e mezzo, credo sia una valutazione corretta, il finale è emozionante, quindi magari copre un po' le mancanze che ci sono nel momento clou, mi aspettavo qualcosa di diverso, giustamente, è anche corretto presentarlo come il film su Pirandello, anche se poi di fatto Pirandello c'è poco, però sta scrivendo sei personaggi in cerca d'autore, è tornato nella sua Sicilia, tra l'altro perché? Perché c'è Verga, Carpentieri, e quindi si confrontano i due nella scena più bella del film, quando sono faccia a faccia, ed è un momento per lui anche delicato, appunto la malattia della moglie, Pirandello molto umano, ma c'è ben poco, seppur faccia chiaramente la differenza, mentre devo dire sicuramente riuscitissima e assolutamente meritata questa grande occasione per Fiegare Picone, divertenti sì, ma anche molto profondi in un'interpretazione assolutamente convincente. Beh, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se l'avete visto, La stranezza dal 27 ottobre al cinema, un film che merita assolutamente, trasmettetelo, professori, nelle scuole, un po' di spiegazione in meno, qualche capitolo in meno, e ci vediamo un bel film in più. Ciao a tutti e sempre viva il cinema italiano!